Il caso di Capocolonna, dopo essere stato oggetto di molte polemiche di alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle e del ministro Dario Franceschini, approda oggi nel Consiglio Comunale di Crotone. Ad un primo ordine del giorno, che si limitava ai lavori in corso di esecuzione sul promontorio di Capocolonna volti alla valorizzazione dell'area archeologica e dell'ispezione ministeriale in corso, ci sono state delle aggiunte che consentiranno di allargare la discussione sul promontorio Lacinio. Secondo le associazioni Gettini di Vitalba, Sette Soli e il comitato spontaneo di cittadini denominato Salviamo Capocolonna, è l'intero promontorio Lacinio ad essere sotto attacco da parte di possibili speculazioni edilizie. Le referenti delle associazioni hanno invitato pertanto i consiglieri comunali, che si riuniranno in Consiglio oggi, ad impegnarsi presso l'ente regione a trasferire l'intero montare dei fondi, ovvero 65 milioni di euro, per la cosiddetta antica Croton, oggi a rischio polverizzazione, e puntare le risorse proprio sul promontorio, al fine di salvaguardare il più importante santuario della Magna Grecia, lì dove sorgeva il tempio dedicato ad Eralacinia, divinità greca, protettrice delle donne e della fertilità.